La terza giornata del girone H di Serie D ormai alle porte, il Manfredonia di Franco 5 si prepara a tornare in campo. I Sipontini, dopo il successo al Miramare contro il Fasano, vogliono riconfermarsi al Pasquale Novi di Angri contro la squadra di Scorsini, che è ancora a caccia del primo successo stagionale. Non sarà però una partita semplice per la formazione biancazzurra. I campani, pur avendo conquistato appena un punto nelle prime due gare, possiedono una realtà con diversi giovani interessanti, pronti a mettersi in mostra come è successo lo scorso anno con Simone Ascione, attualmente al Foggia. Dal suo canto anche il Manfredonia ha palesato di possedere giovani estremamente interessanti come Alessio Porzio. Il classe 2005 ex Udinese Under-19 ed ex Paganese non ha nessuna intenzione di fermarsi e proverà a regalare alla squadra di Cinque un altro pesante successo. Sarebbe il primo del Manfredonia contro l'Angri nei due precedenti della scorsa stagione. Infatti i sipontini pareggiarono al Novi e persero 1-3 al Miramare. Vedremo se la storia cambierà in questo terzo confronto diretto tra le due squadre. L'appuntamento è fissato alle ore 15 di domenica 22 settembre.